Lo stereotipo della femme fatale nasce con il genere noir. La femme fatale è quella donna bellissima, molto procace, che si rivolge ad un detective solitamente caduto in rovina per la scomparso del marito, in lacrime, quindi appare subito come la vittima della situazione, quando in realtà si viene a scoprire che lei inevitabilmente è l'assassina del marito e quindi assolutamente la carnefice.